La ragazza col cuore di ratta, questo è Irama, ma la nostra libraia è pronta col suo brano di oggi. Sentiamo. Pigli un cracker dal pacchetto, lo sminuzzi, ne butti un frammento vicino a voi nel mare e dopo 20 secondi arriva un piccolo banco di occhiate e tu puoi dire a tua nipote Ecco, guarda! Lei però, subito dopo aver visto il pesce sbranare il cracker, non guarda più i pesci e comincia a guardare te, come per dire, ma com'è fatto? A quel punto tu ti senti il principe delle maree, pensi di nuovo che hai asservito il creato e tutte le creature ai tuoi scopi e sei tracotante di ibris e pronto a esplodere di ziita e le dici, e che ci vuole? E butti un altro pezzo e vengono altri pesci, molto di più, e tua nipote ride in credula e pensa che lei ha la fortuna di avere questo zio che è il signore degli abissi, Tritone fuso con Nettuno, e comincia a dire, ancora, ancora! E allora tu pigli il pacchetto e lo svuoti tutto dentro l'acqua e chiami tuo fratello, che te ne porti subito un altro e mentre arrivano banchi interi di auguglie e la bambina comincia ad allarmarsi tu sei preso dalla smania di strafare, e le ficchi in mezzo ai piedi Cracker, e vorresti farla vedere come sei in grado di ammanzire tonni, di far saltare i pesce spada dentro un cerchio e subito arrivano tre o quattro donzelle, due cipurrazze, e le beccano ai piedi con le loro bocche di discrete dimensioni e allora la bambina dice con voce implorante Aiuto papà, papà! E tuo fratello corre verso di voi urlandoti Ma sei deficiente? Che ne hai fatto? Solo che nel tempo che ci mette a raggiungervi saltellando a piedi nudi sugli scogli irti appuntiti e bestemmiando dal dolore lei si è già rassicurata e adesso sta ridendo per il solletico e quello strano dolorino piacevole ai piedi e ha ripreso a dirti Ancora! E poi, anche tu! Perché vuole che anche tu ti ficchi un cracker in mezzo alle dita dei piedi e quando arriva tuo fratello, con i piedi sfasciati dagli scogli appuntiti lei si gira verso di te, il prifferaio dei pesci e ti dice anche papà! E tu le dici no, papà no, hai piedi sanguinanti e poi finisce che arrivano gli squali Ah certo, troppo carino Io le scene dei siciliani al mare Allora, pensare che le storie in realtà dei siciliani delle persone del sud al mare me le sono sognata e ho imparato a viverle con Fantozzi va in vacanza Allora, e chiaramente da quelle puntate mi facevo le migliori risate però chiaramente non pensi mai che è verità nel senso, vabbè dai hanno esagerato perché è un film e va bene, quando arrivo in Sicilia e vedo queste scene che invece sono vere sono, cioè, le capanne del mare i pranzi al mare di tutta la famiglia di tutta la famiglia riunita persone che si alzano alle sei per prendersi posti migliori davanti l'acqua e fanno guerre improponibili con tutti quelli che si mettono nel vicinato mettendo addirittura di vieti di transito no, guarda allora, veramente scopri che è tutto vero la tua infanzia ha un nuovo sapore bellissimo, bellissimo le scene del mare non...